E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video su Call of War Ebbene ragazzi, siamo in guerra con Italia e Regno Unito, ma non la Germania La Germania se ne sta neutrale perché è messa bella male Quindi gli abbiamo concesso di stare neutrale Comunque, che cosa è successo? Allora, in realtà sono passate parecchie ore dallo scadere della pace Circo una giornata da ieri Però, cosa è successo? Allora, qui sto per conquistare Pristina Però ho perso tra i terra e carri pesanti che avevo messo qui Anche se comunque l'Italia ha fatto più perdite di me in generale dall'inizio della guerra Allora, come potete vedere qui c'ho la mia colossale armata in postazione ad attacco No, cosa dico? Di difesa volevo dire perché in realtà questa non è la postazione ad attacco Che tengo appunto nel caso dovesse avanzare qui Se dovesse avanzare la distruggo completamente Ecco Qual è il fatto? Beh, il fatto è che Sì, non è che ci sia molto da dire Ho perso 13 caccia a reazione E tra poco si produrrà anche un carro pesante Quindi la situazione è un po' così Però tutto sommato la situazione è sotto controllo Ho anche conquistato qui Paesi Bassi E ho portato le motorizzate qui Anche se comunque l'Italia ha preso questa provincia E ha portato la sommatorizzata qui Allora, se vedete che qui mi è venuta la notifica È l'Italia che mi dice di accettare la tregua La tregua notturna Tra l'altro ragazzi Allora ho notato che parecchi mi state chiedendo Cioè, mi state dicendo che Call of War è un videogioco O Supremacy anche Sono dei videogiochi anarchici Quindi non è giusto che ci siano queste tregue Allora ragazzi Io queste tregue voglio specificarlo così Nelle prossime video Non mi capiterà di vedere gente che scrive questi commenti Le metto perché Sì, è vero Call of War e Supremacy Dico Call of War ma va bene anche Supremacy Sono dei videogiochi anarchici Puoi attaccare le due di notte Puoi fare quel caspita che vuoi Puoi insultare quanto vuoi Però ragazzi Siamo in una partita che va su YouTube Che registro io Che sono con tutta l'umiltà del mondo Il secondo YouTuber Più famoso Dopo Nax Di Call of War e Supremacy Se non citiamo il mitico Red Dois ovviamente Però Ecco Quindi dobbiamo fare delle partite fatte come si deve E perché mette la tregua notturna? Perché ragazzi Non tutti Sono disposti A stare online Anche alle 3-4 di notte Per ovvi motivi Quindi ragazzi Siccome appunto Non vogliamo Che di notte Ci siano attacchi Ci si distrugga tutto l'esercito Allora Facciamo in modo Che Che ci sia questa tregua È una tregua E questa è la regola più importante Poi ho fatto altre regole Per esempio quella delle tregue Le tregue nei giorni Allora ragazzi Io ho questa regola delle tregue Che devono andare ovviamente Ecco A proposito di Oddio Santo Affanbagno Però Santo Dio Quanto Cato realistico Che fanno Un sacco di danno Queste Mamma mia Fanno un sacco di danno Io sta roba Proprio Non la capisco Che Che fanno tutto sto danno Vabbè Sì L'Italia Anche in superiorità numerica Di caccia Vabbè Comunque ragazzi Vi stavo dicendo Quindi Mi raccomando Ragazzi Questa Qui la faccio Appunto Questa tregua Di durante i giorni La faccio Perché Ovviamente Ci sono giocatori Che di notte Che per un giorno Non possono giocare Perché hanno impegni Perché Devono studiare Che ne so Potrebbero esserci Centomila Perché stanno male E quindi Ecco A proposito Di gente Che sta male C'entra Il nostro amico Conquistatrice Che tra l'altro Il Brasile L'ha attaccato Allora ragazzi Il Brasile Come sapete È una nazione Che di base Non sta seguendo Pi le regole È già stato bannato Non serve che vi preoccupiate E adesso Sta attaccando Regno Unito Lo so Non va bene Infatti Siccome io ovviamente Non posso aiutarli Però I motivi Ho detto A Airo Al Messico Ovviamente Hanno il compito Di distruggere Il Messico E a lui Si è unito Anche l'Australia Che mi aiuterà A difendermi Che a nord Perché Perché come avrete notato Adesso Praticamente Inter Regno Unito Il Brasile In guerra Con me Mi ha dichiarato Guerra proprio Sto pomeriggio E vabbè Comunque Perché con questa treccia Non sta reagendo Oltre al fatto Che vabbè Come vedete Non è che ci abbia Tutte queste truppe C'è anche un altro motivo Qual è questo motivo Ebbene Non sta bene Alla febbre E allora Ha chiesto A noi Una tregua A tempo Indeterminato Probabilmente Pochi giorni Appunto Per ragioni di salute Il problema È che ci sono state Un po' di dispute In quanto Non sappiamo Se vuole Che La tregua Valga anche Per Danix Non lo sappiamo Non l'ho ben capito Però Ecco Dobbiamo decidere Ancora Io E Nax Sul da farsi Allora Nel frattempo Vediamo Com'è andato Qui il bombardamento Ok Miracolosamente Ancora vivo Va bene Ok Conquista Immediatamente Questa Perfetto Conquistata E Basta Ok Abbiamo conquistato Pristina E Vabbè Amen Adesso abbiamo L'uomo di materiali Rari Tutto questo Per sacrificare Un altro Mio carro Pesante Porca Puttana Mamma mia Ah Ha un aeroporto Qui l'Italia Eh Non va bene Allora Vabbè Qui Ok Allora Adesso sono le 9.53 Tra 7 minuti Devo firmare la tregua Con l'Italia Allora Allora ragazzi Vabbè Direi che in realtà Non c'è molto Altro da dire Qui sto muovendo 10 motorizzate Qua Eh Qui A nord Non c'è molto Da dire Eh Qui a est Altrettanto Eh Ah Sì Giusto C'è il discorso Eh Vabbè Sì Ve l'ho già detto Quello dell'India Che di meme Che ha deciso Di Tenere tutto qui Quindi Non c'è Bisogno che vi dica altro Comunque ragazzi Direi che Per questa clip è tutto E ci vediamo Alla prossima clip E Salve ragazzi Benvenuti In In Questa nuova clip Allora ragazzi Diciamo che Sono successo Un po' di cose Allora ragazzi Ieri che cosa era successo Era successo Che Avevo Avevo chiesto Una tregua Di circa Una giornata E Quindi Avevo chiesto Perché ieri Avevo un impegno E quindi Avevo chiesto Appunto Che nessuno Mi attaccasse Ok Però Potevano attaccare Davide E così Hanno fatto Se non fosse Che c'è stato Un problema Praticamente Avevo Come mia provincia Questa qui Che tutta In cui Praticamente Avevo messo Una L'armata Che vi ricordate Si trovava qui Solo che dopo Praticamente L'ho fatta Tornare Solo che L'avevo riportata Qui E questa provincia Si è rivellata Alla Germania Mentre La Germania Ha conquistato Questa provincia Perché Davide Non è riuscito A resistere All'urto Di Germania Italia E Regno Unito Cosa è successo Quindi Beh è successo Che la mia Principale armata Di tutta la nazione È stata Accerchiata A Graf E quindi Quindi che cosa Dovevamo Ho fatto Ho cercato Di chiedere Alla Germania Di farmela passare Perché ovviamente Ragazzi Non è colpa mia Se ho perso Graf Se mi hanno Accerchiata A Graf Perché vi ricordo Che insomma Ero in tregua Io In quel giorno Non avrei dovuto Attaccare Quindi Non potevo Difendermi Attaccare E non ero stato Neanche Praticamente Attivo Quindi Che cosa Ho fatto Beh Ovviamente Siccome Non potevo Fare Chissà cosa Alla fine Ho deciso Di Ritirarmi Lo stesso Infatti La Germania Non mi ha dato Il diritto D'accesso E l'Italia Mi ha detto Che non Che non Accettano Di darmi Il diritto D'accesso Per spostare La mia armata Inizialmente Pensavamo Che fossero Loro Due Egoisti Che pensano Sulle loro stessi Ma poi Abbiamo scoperto Che il più egoista Dei tre Non erano Loro due Che di sicuro Erano Abbastanza egoisti Erano egoisti Anche loro Ma il più egoista Di tutti Era Conquistatrici Il Regno Unito Perché? Perché è stato lui A convincere entrambi Che bisognava Tenermi Accerchiata L'armata Alla fine Io e Davide Abbiamo Abbiamo parlato In una chiamata Ieri Siamo giunti Alla conclusione Che è ingiusto Che loro Mi abbiano Mi lasciano Accerchiato Perché? Perché ragazzi Ci siamo sempre Dimostrati Abbastanza buono Nei loro confronti Quindi ecco E quindi Purtroppo È questo il fatto Cioè Nel senso Noi Abbiamo più volte Abbiamo più volte Seguito Le loro richieste Riguardo Alle pene Che desideravano Ecco E quindi Ci sembrava giusto Che anche noi Avessimo il diritto Di ritirarmi Infatti alla fine Mi sono ritirato Davide è riuscito A convincere La Germania I Regni Uniti L'Italia Non Farmela pagare Per questo fatto Che ho ritirato L'armata E proprio per questo Ringrazio moltissimo Davide Di questo importante aiuto Io Si sono messaggiati All'una di notte Io a quell'ora Stavo dormendo Ma appunto Il mio esercito È ancora Intero Almeno Quell'armata Lì Ha perso Praticamente Niente di vita Quindi ecco E adesso Si trova qui Vicino alle mie città Principali Perché ragazzi Non abbiamo più Molte speranze Loro hanno ripreso Le loro città La Germania Ha ripreso Le sue città E sia io Che Davide Abbiamo fatto Importanti errori Tattici E Beve Storici Non vuole Tornare O almeno Non sembrerebbe Muoversi In quanto La sua armata Nonostante abbia 15.000 punti vita Ecco immobile E questo in realtà Mi scoccia parecchio Perché Meme Cioè Hai un esercito Gigantesco E hai detto Che volevi tornare Cioè Aiutaci Santo cielo Col tuo esercito Loro non hanno Un esercito Infinito Se mettiamo insieme I nostri Tre eserciti Ormai anche Davide Ha sacrificato Tantissimo Non possiamo Fare miracoli Rapporti dal fronte Va bene L'impero tedesco Avanza Chi se ne frega Quindi ragazzi La situazione È molto critica Talmente critica Ragazzi Che non so Quanto sia Fattibile Una Vittoria Adesso Questa Qui è meglio Se mobilito Anche un po' Di artiglieria Beh oddio Forse anche no Dai Muovo qui 5 di artiglieria Qui E Basta Qui Ad aiutare A rinforzare Questa armata Qua Comunque ragazzi Appunto Loro adesso Avanzeranno E nella prossima Click Probabilmente Tutto questo Sarà occupato La situazione Ragazzi È estremamente Critica Io e Davide Non possiamo Più Fare miracoli L'unica speranza È che Meme Torni online Solo allora Potremmo avere Qualche speranza Di vittoria Comunque ragazzi Direi che per questa Clip è tutto E ci vediamo Alla prossima Clip E ok ragazzi Benvenuti All'ultima Clip Di questo video È passata Circa due giorni Dalla scorsa Clip E come potete Vedere A nord Stiamo Avanzando Infatti Ho visto che Non avevano messo Niente a nord E quindi Ho detto Chi se ne frega Io avanzo Infatti Sto continuando Ad avanzare Qui a nord Ho conquistato Qualche provincia E ho liberato Questa parte Della Russia E sto Per liberare Ho quasi liberato Completamente L'Estonia E ora Sto per Liberare La Lettonia Dall'oppressione Nazifascista Di Germania E Italia Ovviamente Signori di Youtube Non prendetela male Perché lo so Che questo È un Videogioco Qui nel frattempo Vedo Che insomma Succedono Rapporti Dal fronte Presa una provincia Vabbè Qui in Scandinavia Chi se ne frega Che se la prenda Pura della Scandinavia Non me ne frega Niente Tanto Adesso C'ho questa Bella armatina Che Fa un brutto Scherzo A loro Qui al sud Però Si trovano La maggior parte Delle truppe Di Italia E Regno Unito Che si trovano Appunto Qui E Nonostante Abbiamo cercato Di sfondare Abbiamo comunque Subito parecchie Perdite Purtroppo Ragazzi Purtroppo Non sapevo Come evitarlo E purtroppo Insomma Si va avanti In sto modo Tra l'altro Quanto danno Fanno I Ma Fanno niente Di danni Che hanno Armati pesanti Però Diciamo che Danno un po' Di fastidio Comunque Ragazzi Direi che Abbiamo abbastanza Risorse Per fare qualcosa Allora Direi di produrre Un po' Di artiglieria Perché di Artiglieria Ne abbiamo Assolutamente Bisogno Ok Allora Artiglieria Arrazzo Via di Artiglieria Arrazzo E anche Un po' Di carri Armati Medi Che anche Loro Stiamo già Producendo Quindi Perfetto Comunque La vera Novità Ragazzi Però Qui a Sud Ebbene Ragazzi Siamo riusciti Cos'era Successo Allora Praticamente L'Italia E Il Regno Unito Avevano Inviato La loro Aviazione Qui a Kiev E in Questa Provincia Allora Nax Ha avuto L'ottima Idea Di dire Ovvio Ho un po' Di bombardieri Strategici Perché Non polverizziamo La loro Aviazione Allora Ho inviato Tutti I miei Bombardieri I miei Caccia Reazione Rischiandoli Quindi Di perdere Tutta La mia Aviazione Per Attirare L'aviazione Di Italia E Regno Unito Ovviamente Mi hanno Attaccato Subito Parecchie Perde Specialmente In questa armata Qui dove Ho perso 8 Combattenti Coi razzi Quindi Ci sono stati Un po' Di problemi Però Vabbè Qui sta avanzando Stavo vedendo Cosa stavo Combinando Però Li abbiamo Attirati Hanno inviato Tutta la loro Aviazione Contro La mia E quindi Dopo Hanno lasciato Completamente Sguarnito Gli aeroporti Insomma Fatto sta che Dan Davide Nax Ha inviato Tutta i suoi Bombardieri Strategici Contro la loro Aviazione E ora Ragazzi Hanno fatto Una strage Hanno distrutto Quasi Tutta l'aviazione D'Italia E Regno Unito Quindi Complimenti a Davide Io oggi Ho fatto anche Qualche Nabata Purtroppo Non ho potuto Stare troppo On Quindi ho dovuto Ho ritirato Un po' L'immunità Vabbè Amen Comunque Ragazzi Appunto Qui Stiamo andando Bene Stiamo anche Cercando In qualche modo Di convincere Meme A tornare Online Dato che Se ci invia Il suo esercito Ragazzi Siamo in forte Vantaggio Cioè Ragazzi Ha un esercito Di 15.000 Troop Punti vita Che Insomma Non sono pochi 15.000 Punti vita Quindi Io direi Che è un buon affare Tra l'altro Anche la Cina Sta per inviare La sua Flotta E tra l'altro Ragazzi Un'ultima cosa Che con i miei 13 sottomarini Sono riuscito A Distruggere La flotta Dell'Italia Ho distrutto Almeno Un'intera Sua flotta Quindi Ho distrutto Tipo 20 corazzate Poco meno 15 corazzate Con i miei 13 sottomarini In Regno Unito Ho ovviamente Inviato i bombardieri Navali Ma sono riuscito A ritirare in tempo I miei sottomarini E hanno perso Solo Tipo Un 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 quarto Della loro vita Quindi Un affare Direi Abbiamo distrutto L'intera flotta A costo di poche perdite Quindi ragazzi La situazione Diciamo che Non abbiamo Ancora perso Che a nord Appunto Stiamo avanzando Qui l'Italia Sì Qui a Germania Non c'è niente Quindi Perché sto avanzando A nord Beh perché ovviamente Se io avanzo a nord Loro toglieranno Un po' di truppe Da qui Quindi potremmo Mobilità Diciamo Arretrare Appunto Questo fronte Qui C'erano Potrò arretrare Qui e riportarlo Nelle postazioni Iniziali E quindi Costringerò Lui Loro A ritirare Qualcosa E noi A eseguire Un attacco Migliore Ok Ho conquistato Cos'ho conquistato Ho conquistato Wilno E direi che possiamo Conquistare Anche Riga Molto bene No Non è ancora Conquistata Vabbè Comunque ragazzi Direi che Per questo video È tutto Mi raccomando Di Iscrivervi al canale Lasciare mi piace Condividere questo video Con i vostri amici E detto questo Ragazzi Ciao E al prossimo video